Buongiorno da Sicilia 24, ben ritrovati, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca con una prima news da Palermo, intascavano i fondi europei destinati alla ristrutturazione delle case popolari nel quartiere ZEN, sono stati arrestati tre funzionari dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, vediamo il servizio. I carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione a tre provvedimenti cautelari degli arresti domiciliari emessi dall'ufficio GIP del Tribunale di Palermo sulla base delle risultanze investigative emerse nel corso dell'indagine coordinata dai procuratori europei delegati di Palermo per le ipotesi di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. L'indagine condotta dai militari della sezione EPPO del Nucleo Investigativo di Palermo tra ottobre e dicembre 2021 ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario che è stato sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare in cui si contesta la presunta esistenza di un unitario centro di interessi illeciti radicato all'interno degli uffici dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, formato da professionisti privati e pubblici ufficiali con competenze in materia edilizia e incaricati della gestione dei fondi di spesa pubblici nazionali ed europei. Secondo l'ipotesi accusatoria, i pubblici ufficiali coinvolti in forza della loro mansione all'interno dei singoli procedimenti in carico all'Istituto Autonomo Case Popolari sarebbero stati in grado di appropriarsi di una parte delle somme di denaro destinate all'esecuzione di lavori, in realtà poi eseguiti solo sulla carta, carpendo la compiacenza degli imprenditori aggiudicatari dei lavori per introdurli poi in un sistema concursivo ambientale finalizzato all'ottenimento di vantaggi patrimoniali indebiti in danno del buon esito di progetti di edilizia pubblica cofinanziati dall'Unione Europea. L'attività investigativa è stata focalizzata in particolare su un progetto di realizzazione di opere di risanamento e manutenzione di edifici di pubblica utilità ubicati nel quartiere Zen della città di Palermo, per cui era stato previsto uno stanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro. Tali opere rientrano nell'ambito del progetto RUIS-Palermo, implementato dalla copertura economica del Fondo Europeo per lo Sviluppo e la Coesione. L'indagine odierna costituisce in assoluto e in campo nazionale la prima operazione dell'Arma dei Carabinieri coordinata dall'Ufficio della Procura Europea. È morto a Milano nel carcere di Opera dove era detenuto in regime di 41 bis il boss Antonino Nino Santa Paola, fratello dello storico capo mafia Benedetto. Aveva 68 anni e da tempo era malato. Nei giorni scorsi a Milano un processo in cui era imputato era stato rinviato proprio per l'impossibilità del boss di prendere parte scientemente al processo. La notizia del decesso ha trovato conferma anche in ambienti della Procura di Catania. E a proposito di Catania, cambiamo argomento, una giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno denunciato un 24enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Avvalendosi dei risultati forniti da una fruttuosa attività info-investigativa, i militari si sono presentati a casa del giovane sospettato di detenere e spacciare droga. Le ricerche effettuate all'interno dell'abitazione hanno fornito ai carabinieri riscontri all'attività di spaccio. Infatti, il 24enne ha spontaneamente consegnato ai militari un barattolo che teneva in camera da letto contenente 12 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. Le attività di perquisizione, proseguite nelle altre stanze, hanno consentito di trovare sul tavolo della cucina la somma contante di 563 euro, ritenuta provento di spaccio. Il giovane, detenuto ai domiciliari all'interno dell'abitazione, aveva anche installato un impianto di videosorveglianza, sottoposto a sequestro, costituito da una telecamera collegata a un televisore che gli consentivano di monitorare l'esterno della casa. A Marsala, invece, un pusher è finito in manette. Tutti i dettagli nel servizio. Deteneva oltre 60 grammi di marijuana in un'abitazione di Marsala, il pusher arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Trapani e del locale commissariato nei giorni scorsi. Il giovane, un ventenne di origine marsalese, aveva creato in casa una vera centrale dello spaccio munita di telecamere per monitorare gli ingressi ed evitare eventuali irruzioni da parte delle forze di polizia. Gli agenti, attraverso un espediente, sono penetrati in casa effettuando un'immediata perquisizione che ha permesso di rinvenire, oltre alla sostanza stupefacente e il materiale destinato alla pesatura e al confezionamento, anche alcune munizioni, degli oggetti idonei all'offesa alla persona e delle fedi nuziali in oro, su cui sono in corso accertamenti per arrivare all'identificazione dei proprietari. Per il pusher è scattato così l'arresto ed è finito ai domiciliari. Il provvedimento è stato poi convalidato dal GIP che ha disposto in seguito la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Anche a Comiso la polizia ha arrestato una persona con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il questore di Ragusa ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al contrasto della criminalità diffusa e del consumo di stupefacenti. I servizi hanno interessato in particolar modo il centro storico del comune di Comiso, le arterie principali di ingresso in città e di tutti i luoghi nevralgici. Gli agenti hanno svolto numerosi servizi volti a reprimere e prevenire il consumo di droga, eseguendo perquisizioni mirate che hanno permesso di trarre in arresto uno straniero colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 35 grammi di hashish già suddivisi in 42 stecchette pronte per essere spacciate e 45 euro in banconote di piccolo taglio provento dell'attività di spaccio. L'uomo, su disposizione del pubblico ministero, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle ore successive ha convalidato l'arresto. Inoltre è stato denunciato a piede libero un altro straniero già noto alle forze di polizia resosi autore del furto di una borsa in una piazza del centro di Comiso. Ci spostiamo adesso virtualmente a Messina per parlare di un furto perpetrato all'interno di una chiesa. Il ladro però è stato presto individuato e denunciato. Nei giorni scorsi le volanti sono intervenute presso una chiesa della zona nord della città per la segnalazione di un furto. Il parroco della parrocchia ha dichiarato ai poliziotti di aver subito il furto del proprio telefono cellulare e di pochi euro conservati all'interno della cassetta delle offerte. Il ladro infatti, dopo aver forzato il candeliere delle offerte, aveva asportato quanto era stato lasciato dai fedeli. Inoltre, entrato all'interno della sacrestia, si era impossessato del telefono del parroco. A seguito di ulteriori accertamenti, i poliziotti della questura di Messina sono riusciti, anche tramite i sistemi di videosorveglianza, a identificare il ladro, un 51enne residente nella provincia di Enna, ma di fatto senza fissa dimora. L'uomo, intercettato due giorni dopo il furto, alla vista dei poliziotti ha mostrato sin da subito segni di insofferenza, dichiarando di trovarsi a Messina da qualche mese, fin quando non ha ammesso il furto commesso in chiesa. Per tali ragioni è stato denunciato per furto aggravato. Per lui, inoltre, è stato predisposto un foglio di via obbligatorio a firma del questore, che lo obbliga a fare ritorno nel suo comune di residenza, vietandogli di fare ritorno a Messina per un periodo di tre anni. Ed ora il Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino, quindi il bollettino di ieri, 8.676, i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 34.989 tamponi processati. Tasso di positività che sale al 25% e Sicilia al sesto posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 161.134, i guariti invece 2.956. Purtroppo si registrano altre 17 vittime che portano il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia a 11.454. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.079, lo stesso numero rispetto al giorno precedente, invariato anche il numero di pazienti in terapia intensiva, che restano quindi 47. Per quanto riguarda i dati a livello provinciale, stavolta è Catania, la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 1.861, poi Messina con 1.634, quindi Palermo con 1.606 nuovi casi Covid, Agrigento con 999, Siracusa con 971 e poi le altre province con dati più bassi. Questo dunque il bollettino di ieri, l'ultimo diramato dal Ministero della Salute, poi in serata, quando usciranno i dati aggiornati, i dati di oggi, chiaramente ve li daremo nel corso delle nostre edizioni di Spazio e Notizia. E ieri si è celebrata una ricorrenza importante, il trentennale della strage di Via D'Amelio, tante gli eventi organizzati non soltanto in Sicilia, tante ovviamente le reazioni non soltanto di esponenti politici. Ad esempio ha parlato il Presidente Nello Musumeci e ha usato parole piuttosto forti, sono sempre stato diffidente, ha dichiarato nei confronti di chi dalla mattina alla sera parla di antimafia, sono pericolosi perché fanno la lista dei buoni e dei cattivi, fanno gli antimafiosi per mestiere. Questa parabola per molti dei professionisti dell'antimafia si è conclusa nelle aule di giustizia, erano mestieranti, il più pulito aveva la rogna, dice Musumeci che poi aggiunge, certa sinistra ma anche il mondo del populismo grillino, ha tentato in questi anni di accreditarsi un ruolo di mestieranti dell'antimafia per delegittimare gli avversari, li abbiamo smascherati. Io avevo 39 anni, ricorda il Governatore, quando la mafia mi condannò a morte, i servizi intercettarono la telefonata e sventarono l'attentato dinamitardo davanti casa mia. Ero colpevole di avere sottratto alla mafia un appalto di 52 miliardi di lire. Da allora sono stato sottoscorta ma non ne abbiamo mai fatto un mestiere. E come detto tra le tante reazioni c'è anche quella della Presidente Mattarella, Paolo Borsellino ha dichiarato il Capo dello Stato come Giovanni Falcone e altri magistrati, fu ucciso dalla mafia perché con professionalità, rigore e determinazione le aveva inferto un colpo durissimo, disvelandone la struttura organizzativa e l'attività criminale. La mafia li temeva perché avevano dimostrato che non era imbattibile e che la Repubblica era in grado di sconfiggerla con la forza del diritto. Il suo ricordo, ha aggiunto Mattarella, impone di guardare alla realtà con spirito di verità dal quale l'intera comunità non può prescindere. Quell'anelito di verità che è indispensabile nelle aule di giustizia affinché i processi ancora in corso gli svelino appieno le responsabilità di quel crudele attentato e degli oscuri tentativi di deviare le indagini, consentendo così al Paese di fare luce sul proprio passato e poter progredire nel presente. Queste invece le dichiarazioni di Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone, nel ricordare Paolo Borsellino, ha detto il suo straordinario esempio di uomo e di magistrato, il suo sacrificio, torniamo a chiedere la verità piena sulla morte e su quella dei suoi agenti di scorta. Da cittadini, aggiunge la professoressa Falcone, abbiamo il dovere di non rassegnarci, di continuare a pretendere che sia fatta luce su uno degli episodi più gravi della storia recente. Lo dobbiamo ai nostri caduti e al nostro Paese. Il tempo trascorso, conclude Maria Falcone, non sia un alibi per nessuno. Ed ora invece a Palermo, ieri è stato proclamato il nuovo consiglio, la nuova giunta, scusate, sono stati resi noti i nomi, non le deleghe. Intanto partiamo da Carolina Varchi, deputata nazionale di Fratelli d'Italia, che ha invece prestato giuramento come vice sindaco di Palermo, quindi sarà lei il vice sindaco nella nuova giunta, poi del sindaco Lagalla. Avrà la delega al bilancio, legalità, beni confiscati e società partecipate. Da oggi, ha dichiarato poi la Varchi in un post su Facebook, ricoprirò la carica di vice sindaco di Palermo, un ruolo che mi vedrà impegnata in prima linea per il riscatto della nostra città. Mi insedio il 19 luglio, una data simbolica per Palermo e per una città che visse l'orrore dell'attentato mafioso contro Borsellino, a pochi messi di distanza dalla strage di Capace in cui perse la vita Falcone. Sento forte la responsabilità del ruolo che mi accingo a ricoprire, ha dichiarato e metterò tutto il mio impegno avendo come rotta da seguire quella tracciata dai martiri caduti nella lotta alla criminalità organizzata. Palermo può e deve tornare a sperare e a vivere in un futuro migliore. Come detto, ieri sono stati resi noti i nomi degli assessori, quindi finalmente la galla ha la sua giunta. Chiaramente non sono mancate le polemiche. Oltre a Carolina Varchi, le deleghe degli altri assessori verranno poi comunicate domani in occasione della presentazione ufficiale dell'aggiunta. Dicevamo i nomi Giampiero Cannella, Maurizio Carta, Dario Falzone, Sabrina Figuccia, Giuliano Forzinetti, Andrea Mineo, Salvatore Orlando, Rosalia Pennino, Aristide Tamayo e Antonella Tirrito. Questi quindi i nomi che compongono la squadra della sindaco Roberto Lagalla, poi domani nel corso di una conferenza stampa di presentazione ufficiale vedremo anche le deleghe dei nuovi assessori. Intanto noi ci fermiamo qui, per il momento è tutto, non ci sono aggiornamenti ma ci ritroviamo più tardi come sempre su Sicilia 24. Grazie a tutti.